Benvenuti in questo nuovo video in collaborazione con Chica Boom quest'oggi voglio parlare dell'edizione Jurassic del Letranimal sono 17 lettere che si possono trasformare in animali giurassici la cosa fantastica è che possiamo combinare vari Letranimal per creare i Big Robot lui è uno dei tre ed è veramente incredibile ognuno ha la sua arma speciale e questo è stato costruito da ferro perché è più brava di me riuscire però a trasformare il Letranimal e creare i Big Robot non è una cosa semplice richiede una certa bravura e soltanto i più bravi di voi ci riusciranno ma capire come si fa è veramente divertentissimo ci sono anche tre Letranimal speciali che si illuminano al buio e permettono di creare altri tre Big Robot leggendari li trovate in edicola in busta, li potete acquistare anche online dove potete scegliere il vostro Letranimal e dove potete addirittura acquistare i Big Robot già pronti ma altro per poterli collezionare potete giocare anche con le carte che trovate all'interno che hanno un sistema di gioco veramente interessante e divertente inoltre un'altra cosa interessante è che esiste il cartone animato in onda su K2 che probabilmente molti di voi già conoscono vi lascio qua il codice sconto per poter acquistare online tutti i Letranimal che vi piacciono e nulla, buona visione con i video benvenuti in questo nuovo video di Among Us quest'oggi qualcosa di veramente particolare gli impostori saranno completamente ciechi che cosa vuol dire che non vedranno una mazza rispetto agli altri giocatori quindi oggi essere impostore è veramente ma veramente un'agonia allora bello però beh l'idea è una figata ciao Fere ciao tu 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 sei l'impostore cosa? sei l'impostore non dirmi cosa ho visto una venta aprirsi dove? qua? dove? è quella di intaghiamo ma che ne so com'è possibile scusami? non dai non ho capito perché devi fare queste cose? io adesso faccio la spia da fantasma giuro che lo faccio no no lo faccio no lo sapevo che eri tu perché mi stavi seguendo tu non mi segui mai Fere dovevo poter dire fin da subito che ero l'impostore ok la doppia che succede? chi è quel pazzo che mi è chiuso dentro storage per farmi prendere la colpa che ce la fa vj dentro storage morto e mi avete chiuso dentro questa è una vergogna pesante io ho visto passare da giù che noia no dai martina tre volte non può essere tre volte di fila è impossibile io stavo in navighiera dove era Fabio morto? no martina no c'è la voglia in navigation 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 oh raga posso coprire martina sono sempre stato con lei e allora Nat bravo lo sta dicendo e allora votiamo Nat e votiamo Nat c'è cosa sta dicendo perché ragazzi erano le due che stavano sotto ma io stavo in navigation comunque fa ridere il fatto comunque non è per dire ma io con la mia super vista a sette chilometri di distanza ho visto il corpo di Fere davanti in navigation grazie che qualcuno se ne ha accorto non dico c'è Nat era lì ma io per far condizio voto Xiao eh no Xiao vota anche me io non ho capito cosa state votando ma va benissimo no quel che noia non so se si copre una vicenda per un turno lasciamo i liberi a me fa ridere un sacco il fatto che ogni volta che si dice votiamo Nat subito è il primo a partire in guida ma se lui dice che è navigation mi dite che c'è il corpo di Fere però cosa dobbiamo fare ma vedi che stavo in navigation io allora boh non ho capito ma povero basta ce lo dirà eh già oggi va sempre così di nuovo ma chi è l'altro ah Rob allora io direi di rendere ciechi così provano quello che provo anche io un attimino ma è molto brutto e soprattutto Fere è terribile davvero poi lo vedrò però non riesco a immaginarmelo no no è veramente assurdo non posso fare emergenze eccoci qua adesso io vedo leggermente più di loro andiamo a cercare qualcuno ok non vedo nulla è terribile non è il video cantato allora adesso parlo io adesso parlo io ora parla lui dove eravate tutti gli storage incrociato Marcia storage e poi electrical eravamo tutti in elettrica ok allora uno di quelli che era in elettrica ha fatto la killettina in security e poi si è inventato io tu no scusami scherzo 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 secondo me è pulito allora xiao è pulito Martina è pulita ma è impossibile che abbia avventato ad electrical marci perché c'ero anche io ed erano sopra la vento tutti cioè non poteva avventare uno lì cioè ho rimasto tra l'evento e c'erano xiao dentro io sono quello che ha tirato sulla luce perché sia marci che Matteo l'hanno lasciato con uno spinotto no io l'ho lasciato perché xiao trollava xiao che stava trollando ma è vero come hai fatto questo perché eh tu ho visto allora secondo me adesso Matteo non so le tue motivazioni e doveri però è uno tra teo e rob perché stef effettivamente l'ho visto in storage martina martina è pulita martina è pulita a prescindere xiao xiao dai stava trollando con le luci quindi non è però io e rob l'ho visto all'electrical eravamo tutti lì eravamo quattro in elettrica eh ma raga io non sono cioè io non sono vabbè allora mi fido vabbè non sono neanch'io c'è ragione raga dobbiamo votare io mi butto su roba a caso va bene io mi butto su marci non so chi votare non so chi votare secondo me è teo ok io ho sbarattato l'arancione ok siete dei gorilla vediamo bravi mamma mia porca miseria mannaggia porca miseria come l'ha fatto a beccarlo voi non lo so non lo so porca miseria adesso come fai sono soletto non lo so non vedo nulla sono solo infatti che vita che disastro questo allora non arriva nessuno ecco ecco scappa scappa però sono fregato non ho modo dovrei fare un'altra emergenza e distrarli anche secondo me prima che loro poi possano chiamare un'emergenza e votare ok devi fare qualcosa Steph allora vado a provare a fare un'altra kill sempre qua ok raga ho visto marci far la kill eh vabbè che devo fare mo io non dico chi voto eh che vuol dire beh certo guarda c'è la luce spente non ho visto niente io cioè io stavo arrivando e ho sentito kill no guarda Steph secondo me è stato Matteo perché era lì vicino a noi eh vabbè mi dispiaceva troppo lo so ero disperato ma te lo mi hai visto no non ti ho visto appunto davanti eravanti accanto praticamente no io ok e dici vabbè può capitare dell'altro di fila Martina Martina no peggio Rob sì ma che mi prendi in giro te lo giuro il video doppio stavo facendo il video doppio in copia e colla il video doppio in copia e colla che manco se l'avessi voluto fare ci sareste riuscito ma noi non ci credo non sospetteranno mai cioè al massimo possono sospettare di uno dei due ma non di tutti e due Steph questa è un'altra win allora ma la fatta Axiao o no cos'è successo cioè torna la meme di loco morto al primo turno ma no raga l'ho visto ero in elettrica scommetto no l'ho visto lì dove era l'ho visto lì ragazzi io ho la call totale vai Fabio diccelo allora potreste uccidermi subito dopo e ho anche paura di fare questa call perché si tratta di che noia ma per me è che noia che brutto che stai vicino a loco neve vado giù e vedo solo che noia salire ed è morto loco neve istantaneamente self report ma c'era un altro io l'ho visto aspetta voglio sapere chi è l'altro la Martina l'ho visto un po' male aspetta facciamo un attimo il conto allora in elettrica c'ero io però nella parte alta ho visto anche xiao che stava facendo l'emergenza delle luci quindi ovviamente mi sono spostata perché se no stavamo a cliccare così insieme quindi io ho bisogno di minutaggio quindi non sono andato ad elettrica sono rimasta a caffetteria in alto io ho visto rob in caffetteria mentre io ero verso le armi navigation tipo ti ho visto sì sì ero lì quindi rob marci fere xiao ma la manca nat fabio che noia stef xiao e io e Matteo scusate in tutto il tempo qualcuno può confermare mi hanno visto a Nat nessuno conferma mai lasciami pace a Nat per favore dai l'abbiamo visto tutti a Nat Nat è safe Nat è safe schipio eh non si sa si capisce nulla allora io te lo dico giocherò onesto ok che mi ha detto chi sono però se vedo qualcosa lo dico se non la vedo non lo dico non ti difendo a priori ok ok non ho visto nulla no teo no allora ero in electrical ok ho visto Matteo che stava sulla ventola allora sono sceso c'era Fere che era davanti alla porta chiusa e non poteva superare la porta sono tornati elettriche e l'abbiamo morto quindi hanno ventato l'hanno ucciso e l'hanno riventato allora da quelle zone gli ho visto Nat e Marci no 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 parlo io no mo parlo io ragazzi hanno ventato l'hanno ucciso quindi nessuno era in elettrica io sono passato verso appena in Gianni e mi è passato attraverso Steph ti stavo per dire che eri pulito però adesso ho sospetti però prima prima mi è passato prima mi è passato roba attraverso e andava verso security sì t'ho visto pure io che sei non so se qualcuno ha ventato se più non c'era nessuno eh ma se qualcuno ha ventato verso elettrica possono rimanere nelle venti il discorso è avete idea di da quanto è morto altrimenti state votando totalmente a caso io allora ero lì ed era vivo stavo facendo la tasca e sarà stato ucciso nell'arco di 5 o 6 secondi non di più quando io mi sono andato da l'elettrica l'era ancora vivo ed erano rimasti dentro Fere e mi sembra Pavidei io io sì ero io e Fere è morto in 5 secondi ma scusa e tu non hai visto entrare l'elettrico qualcuno no perché io sono uscito sono andato da qualcuno ha ventato io devo tornare qua a far task pure io anzi tu no fake task ok esattamente quello che volevo fare anche io sono stanca di fare emergente basta allora ok spegniamo le lucine che finalmente vedete poco anche voi e ci divertiamo io non vado a farle ci tengo la mia vita mi spiace ti sento ventare pare di tutto sì infatti scuola mi hanno sentito pesa pesa è morto xiao ed era davanti al corridoio di navigation dove c'è la vento per admin e niente avevamo le luci spente quindi non ho visto niente cioè sono arrivato un avventato admin e non ho visto chi era hai visto anche tu dovevamo dire che si è rossa la ventola di admin io non ne ho idea ragazzi senza luce non ho visto niente quindi campero security fino a io ero con martina a fare l'emergenza delle luci e mi sono staccato perché stavamo ma quando è morto è nato scusatemi è vero e l'abbiamo buttato fuori no è vero è morto è morto poi era nato infatti dicevo perché siamo già quattro allora ho un braga non lo so aspettate quando abbiamo fatto l'emergenza all'ossigeno c'erano feri e martina in quello in basso c'è quello dove c'è admin e io ero lì vicino alla card noi tre gli altri tre dove erano fabio io ero security e infatti erano accese e ho di sicuro visto fabio ma perché ti devo chiamare fabio mannaggia te ma perché ti chiami fabio e ce n'era un altro però non mi ricordo però marci da security li ho visto di sicuro fabio rob non l'hai visto non mi ricordo non mi ricordo erano almeno due c'era anche Nat e xiao non c'era raga dobbiamo votare uno tra fabio rob uno tra fabio rob e beh per forza è morto non è xiao però ma raga solo il mio voto ragazzi non lo so era con me non potrebbe era con c'è non raga però no se non è impostare ma morto incredibile bellissimo che assurdo che culo è dato il voto mamma mia io non sapevo chi votare sta andando allo stesso identico modo esatto ma poi non c'erano reali sospetti sinceramente mi sono incasinata col tempo limite non sapevo proprio chi votare avrei dovuto votare qualcuno a casa anche io è che poi diventavo sospetto però l'avrei dovuto fare tipo io totalmente random non so più è che non ci ho pensato è volato il tempo fate troppe emergenze non fa cosa? fate troppe emergenze non mi dire cosa è troppo rumore non la chiamo non la chiamo martina è imbarazzante io veramente martina sei imbarazzante si è passata da sotto ma può essere che siamo stati uguali identici invece di fila è impossibile pazzesco raga oh mio dio via